Lettura, Vangelo e Commento La mia via è nascosta al Signore e il mio diritto è trascurato dal mio Dio. Non lo sai forse? Non l'hai udito? Dio Eterno è il Signore che ha creato i confini della terra. Egli non si affatica né si stanca. La sua intelligenza è inscrutabile. Egli dà forza allo stanco e moltiplica il vigore allo spossato. Anche i giovani faticano e si stancano. Gli adulti inciampano e cadono. Ma quanti sperano nel Signore riacquistano forza, mettono ali come aquile, corrono senza affannarsi, camminano senza stancarsi. Dal Vangelo secondo Matteo In quel tempo Gesù disse Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo infatti è dolce e il mio peso leggero. Parola del Signore Lode a te, o Cristo Commento del Santo Padre Non dimentichiamo di aprirci a Lui e di raccontargli la vita, di affidargli le persone e le situazioni. Forse ci sono delle zone della nostra vita che mai abbiamo aperto a Lui e che sono rimaste oscure perché non hanno mai visto la luce del Signore. Ognuno di noi ha la propria storia e se qualcuno ha questa zona oscura cercate Gesù, andate, andate da un prete, andate, ma andate a Gesù e raccontagli Gesù quello. Oggi Egli dice a ciascuno, coraggio, non arrenderti ai pezzi della vita, non chiuderti di fronte alle paure e ai peccati, ma vieni da me. Quando nella vita entra Gesù, arriva la pace, quella che rimane anche nelle prove, nelle sofferenze. Andiamo a Gesù, diamogli il nostro tempo, incontriamolo ogni giorno nella preghiera, in un dialogo fiducioso, personale. Familiarizziamo con la Sua parola, riscopriamo senza paura il Suo perdono. Se questo video ti è stato utile, ti chiedo di iscriverti al canale, mettere un like e condividerlo con i tuoi amici. Grazie e a presto.